Lo sapevi che Pai Trainor è l'unico announcer di wrestling inserito anche nella Hall of Fame del baseball? Giocatore per i Pirati di Pittsburgh come custode della terza base dal 1920 al 1937, Pai è diventato poi una personalità del wrestling nella stessa città, lavorando come cronista e presentatore sino alla fine degli anni 60.